Sì, sono l'impostore! Chi è? Oh, un party! Bello! Ma come facciamo? Ehi, hanno visto tutti! Sì, possiamo anche giocare ad Among Us! Possiamo anche usare i costumi di Among Us! Bella l'idea! Ma non so cucinare! Vabbè! Bello! Ciao ragazze, io sono Ladybug! Ciao ragazze, io oggi sono una principessa! Ciao Dana, Daisy, Polly e Anna! Io oggi sono un poliziotto! E vi posso mettere in prigione a tutte! Ciao Marta! Ciao a tutti! Ciao! Ancora Among Us! Non potevi inventarti qualcos'altro? Oh mio Dio, non respiro più! Bell'albero Dana di Natale! Grazie! Passiamo a un party grandioso! Yeah! Idea! Abbiamo ancora un'ora! Fino a Capodanno! Possiamo giocare ad Among Us! Giochiamo ad Among Us nel 2021! Va bene Dana? Io ho la ringa! Anche se non ci avevo pensato che forse non la mangio! Perché fa proprio schifo! Ha anche un odore schifoso! Bleh! 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 No! È molto strano! Io oggi ho fatto dei frutti di mare! Non li ho mai provati ma penso che sono buoni! Io non lo mangerei! No, quello non l'ho mai provato! Io ho della pasta con le vongole! Le vongole? Quello l'ho provato una volta e mi piace tanto! Voi avete mai provato l'insalata con la barbabietola? Io mai! No! Neanche io! Si può anche usare come rossetto! Oh, molto interessante! Eh, che schifo! Mi sembra disgustoso! Fai vedere Dana! Eh, sì sì! Aspettate un attimo, lo porto subito! Ho preparato questi biscotti! È molto bello ma ho già mangiato questo! Come? L'hai preparato tu da sola? Non ci credo! Cominciamo! Buon appetito ragazze! Aiuto! Cosa? Forse è successo qualcosa con Wi-Fi! Adesso la chiamo subito! Ma perché? Non risponde! Cosa è successo? Cosa? Magari ha bisogno di aiuto! La chiamo subito! Che succede? Che succede? Chi è? Siamo noi le due amiche! Apri Dana! Che bello scherzo! I vostri scherzi sono sempre così stupidi! Mi stavo preoccupando! È quasi Capodanno! Dai, venite al tavolo! Ah, lo sapevo! Dana non ha preparato niente! Ehm... Ehm... Va bene! Che bello festeggiare insieme! Festeggiamo! Intanto voi sedetevi! Io devo andare un attimo in bagno! Ma dov'è? Perché ci mette così tanto Dana? È quasi Capodanno! Qualcuno la può chiamare? Apri! Non c'è nessuno! Dov'è Dana? Come? Cosa? Non c'è? Aprite la porta! Troverò dei strumenti per aprire la porta! Non capisco niente! Era uno scherzo, ragazzi! Anch'io so fare scherzi, eh! Buon atto!